Come Renzo? Come Renzo? Va! Ma perché lo fate di lì? Che è più facile di lì? Io non lo so. Basta, gli altri sono scappati. Oh! 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 Let's go! Oh! 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 con i tronchi qui il vescivolo non ne basta chi è che ha messo da quei tronchi là? che scivolo non ne basta figaro è più difficile la discesa che la salita figaro di qua è un po' più difficile vediamo se resto lì e ciao voglio dargli tanto sotto vi dargli forze da qua vediamo in basso guarda 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 e e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti A 1 è accettabile A 1 è accettabile